Secondo video di giornata sempre a tema Sinner perché ho visto che è scoppiato sui social il caso appunto di questa pallina che era fuori di un metro, un metro no, mezzo metro e che secondo molti ha fatto perdere Sinner quindi è stato derubato. Già nel video di prima gli avevo dato un breve accenno perché? Perché per come la vedo io anche se sì è stata un'ingiustizia però attaccarsi a questo non lo so ecco per quanto sia stata un'ingiustizia tutto quello che volete fa parte purtroppo anche questo dello sport è vero ci sono tutti i mezzi non dovrebbe succedere. Sinner sarebbe andato sul 4 a 1? È vero probabilmente avrebbe vinto sì però allo stesso tempo magari che ne so con i crampi si sarebbe fatto comunque rimontare anche lui è stato poco lucido in quel momento lì perché ha continuato a giocare non si è fermato subito insomma l'errore rimane l'errore clamoroso rimane tutto quello che volete però non voglio ergermi a paladino della giustizia o perbenista però dico che cavolo vabbè pazienza insomma è andata così non lo so mi sembrano tanto polemiche simili a quelle del mondo del calcio che mi hanno stancato non queste qui del tennis però non lo so ecco quindi sono molto in difficoltà sono molto in difficoltà non volevo neanche farlo questo video infatti nell'altro ho parlato prettamente della partita in sé l'ho appena accennata questa svista perché non lo so cioè c'era tanto tempo per giocare cioè c'era tanto ancora di match e poi Sinner è vero che un po' l'ha pagata psicologicamente ma sono subentrati i crampi e la partita è andata così che dire io voglio pensare al tennis giocato Sinner comunque ha fatto una grande partita e questo episodio non cambia la grande partita anche se Sinner avesse vinto il mio giudizio rimaneva quello non sarebbe cambiato nulla fatemi sapere anche voi cosa ne pensate so che questo sarà un argomento molto divisivo l'errore c'è stato punto non doveva esserci siamo tutti d'accordo tutti d'accordo però allo stesso tempo dico anche è andata così ogni tanto succede anche nel tennis Sinner è un campione talmente grande talmente forte che supererà e passerà anche questo che sarà una lezione per il futuro mettiamola così per battere Sinner è servito questo dai buona serata a tutti Grazie a tutti